Con le accuse di violenza e resistenza pubblico ufficiale finita ai domiciliari, una donna di Palmi di 47 anni già con precedenti penali. I fatti risalgono lo scorso 4 dicembre. Secondo il racconto fornito dal comando di polizia locale di Palmi, una pattuglia stava controllando un'auto parcheggiata all'interno dell'area pedonale dinanzi al Palazzo San Nicola, sede del municipio. L'auto non aveva il permesso per sostare, motivo per il quale gli agenti stavano procedendo a multare il proprietario. In quello stesso momento una donna usciva dal municipio, era la proprietaria dell'auto parcheggiata in divieto di sosta, la quale, riferisce il corpo di polizia locale di Palmi, avrebbe iniziato a inveire contro gli agenti. Invitandoli a non elevare alcuna sanzione alla ferma opposizione degli agenti, la donna sarebbe passata agli insulti. Dopo essersi rifiutata di farsi identificare, avrebbe anche cercato di allontanarsi. Raggiunta dai vigili, la donna si sarebbe opposta ancora all'identificazione, passando alle vie di fatto, ed aggredendo fisicamente gli agenti, colpendoli con calci violenti, tanto da dover essere immobilizzata e ammanettata, e anche con le manette e polsi, non avrebbe desistito dalla sua azione violenta, sferrando calci e pugni. Condotta in caserma, la donna è stata dichiarata in stato di arresto e posta a disposizione del magistrato di turno, il sostituto procuratore Daniela Scarpino, che ha disposto per la donna gli arresti domiciliari. Gli agenti della Polizia Locale nella colluttazione hanno riportato alcune lesioni medicate al punto di primo intervento dell'ospedale di Palmi. Nel frattempo, il GIP del Tribunale ha poi convalidato l'arresto, sottoponendo alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per tre volte a settimana.